Si torna a parlare della questione tribunale di Lucera, che dopo la chiusura ha visto attivarsi il Comitato di Coordinamento Nazionale per la Giustizia di Prossimità, che raccoglie le rappresentanze amministrative, forensi e associative dei 30 tribunali soppressi in Italia, presieduto dall'Avvocato Giuseppe Newsday, ricevuto lo scorso marzo dal Ministro della Giustizia Bonafede, il quale ha mostrato segnali di apertura verso la riattivazione di quei tribunali che sono stati chiusi, tra cui quello di Lucera, importante presidio di legalità in una zona come quella della provincia di Foggia, invasa dalla criminalità. Questa linea del Ministero trova continuità, tant'è che a Roma sono previsti per il 21 ottobre incontri con l'intergruppo parlamentare, che ha il compito di verificare le situazioni dei vari tribunali che sono stati soppressi. A partecipare per Lucera, una delegazione composta da Giuseppe Newsday, Antonio Laronga, Fili Franchino, Enrico Foglieri e Gianluca Ursitti. Anche il Comitato per la difesa della legalità incapitanata, diretto dall'Avvocato Raffaele Preziuso, non ha mai smesso di lottare per la riapertura del Tribunale di Lucera. Questo del 21 ottobre sarà un passo importante che riaccende le speranze.